E' in vendita, 54 milioni di dollari, la prima villa del magnate americano Donald Trump che si trova a Greenwich nel Connecticut. Lo riferisce il blog di casa.it. Costruita nel 1939 in stile coloniale, la proprietà di oltre 1800 metri quadri, è circondata da un parco che ospita una piscina olimpionica e un campo da tennis. La villa fu acquistata da Trump nel 1982 per 4 milioni. La moglie Ivana si è occupata della ristrutturazione, ispirandosi allo stile del Plaza Hotel di Manhattan, ai tempi proprietà dello stesso Donald Trump. Dopo il divorzio fra i due, fu venduta nel 1998 per 15 milioni di dollari. Oggi è in attesa di un nuovo proprietario.